Mi ha inviato la mail in cui mi mandava la versione della tesi completata, quindi aveva portato a termine tutte le revisioni che io le avevo chiesto. Quindi con questo messaggio di fatto mi consegnava l'ultima versione della tesi perché era pronta per laurearsi. Poi io le ho risposto lunedì mattina appena sono arrivata, quando ho visto il messaggio le ho detto subito che la tesi andava bene e che poteva essere caricata sul sito di Ateneo per l'approvazione formale. Naturalmente però a questo messaggio poi non è più seguita nessuna risposta. Giulia purtroppo non ha mai saputo che la sua tesi era perfetta. Il messaggio mandato lunedì mattina dalla professoressa Todros non l'è mai arrivato. Era già morta, uccisa da Filippo Turetta e lasciata in un canalone di Piancavallo vicino al lago di Barchis. Le mando l'ultima versione della tesi con tutte le correzioni che mi aveva chiesto. Attendo il suo via libera per caricarla aveva scritto Giulia la relatrice sabato un'ora prima di salire in macchina per quel maledetto ultimo appuntamento con il suo assassino. Giovedì 16 novembre la professoressa come tutti i docenti della facoltà di ingegneria ha aspettato e sperato che Giulia varcasse la porta del dipartimento per la discussione della tesi anche se non era stata caricata sul sistema online dell'università. Giulia era una brava studentessa, ricordo che di lei è soprattutto legato alla sua presenza a lezione quindi l'impressione che mi aveva dato era un'ottima impressione di una brava studentessa che aveva anche un ottimo rendimento e anche nel lavoro di tesi si era sicuramente impegnata e aveva fatto un buon elaborato di tesi quindi io le avrei dato una valutazione ottima del lavoro di tesi. Giulia si sarebbe laureata con un buon voto, studentessa precisa e volenterosa. Penso che sia un atto dovuto conferire la laurea a Giulia perché comunque Giulia aveva già sostenuto tutti gli esami aveva di fatto ultimato la tesi quindi manca semplicemente un conferimento formale ma è sicuramente una laurea che lei si è meritata pienamente non è neanche una laurea postuma è di fatto la sua laurea che si era già guadagnata completando tutto il suo percorso di studi. Domani nel Dipartimento di Ingegneria Dei di Via Gradenigo verrà installata una panchina rossa in sua memoria. Resterà lì per sempre, non è una panchina che viene messa lì temporaneamente perché vogliamo dare un messaggio tutti i giorni dell'anno per tutti gli anni a venire che c'è stata una cosa drammatica e terribile che è successo e per cominciare noi a capire cosa possiamo e dobbiamo fare ognuno di noi dallo studente al docente per evitare che questo si ripeta.